mi arrendo immediatamente faccio attenzione che qui fuori ci sono tre miei colleghi pecora marmotta e romola dentro cobra bodyguard di Anna falchi mentre fa il calendario nuda tutta nuda tutta nuda banalis seguriti oh mamma mia come sto mi sento come il cappuccetto rosso veramente pensate che affiderei sindy crawford a voi quattro mentre noi porteremo la vera crawford a napoli voi porterete a genova la sossia la sossia massimo massimo ma io devo fare il bodyguard ad un cane il suo compito è di stare attento che non succeda niente ma che c'hai al posto delle zine tu parabole questa è una rapida tu sei in bodyguard no ma chi è io ma che vuoi io è schifo proprio in bodyguard e andiamo e vai a sta villa al cobalello ma che andiamo ma cosa dice anniamo la chicchi se non puoi portare pure me io faccio la spia fermate quando vai questa cosa come ti chiama muchaccia paolo è morto come è morto oddio non ce la faccio e calma geni sei viva sei viva e vegeta bodyguard con loro nessuno è al sicuro geni sei viva